Dejan, il tuo 2020 inizia con la firma sul contratto della Juventus, meglio di così un anno non può cominciare direi, quali sono le tue sensazioni? Sono molto contento, come hai detto non poteva iniziare meglio di così, è un giorno molto molto importante per me, per i miei amici, per la mia famiglia, per tutti quelli che hanno lavorato con me, quindi sono molto contento. Tu arrivi alla Juventus grazie anche alla strepitosa prima parte di stagione vissuta con il Parma, 17 presenze, 4 gol, 7 assist e a questo punto ti chiedo se preferisci mandare in rete un compagno o segnare tu personalmente, visti i tuoi numeri? Io gioco solo per vincere, quindi se penso che è meglio tirare tiro, però se vedo che il mio compagno ha una posizione meglio di me per fare gol la passo perché non contano gli assist, non contano i gol, conta solo la vittoria. Sarri vuole un calcio offensivo fatto di tocchi rapidi, tecniche a baricentro alto, quali sono le tue caratteristiche che credi si sposino meglio con questa mentalità? Il gioco di Sarri ha fatto un lavoro fantastico a Napoli e anche a Chelsea, ho studiato il suo gioco che mi piace molto perché la palla va veloce, sempre due tocchi, tutti si aiutano, giocano uno a due, quindi io voglio migliorare e penso che lui mi fa migliorare veramente tanto. Cos'è il Parma per te, visto che è stato un trampolino di lancio importante e cosa rappresenta la Juventus per te? Parma è diventata una casa per me, sono là da sei mesi, mi sento a casa, tutti i compagni mi aiutano tutti i giorni, il mister mi ha aiutato dal primo giorno e sono fortunato di avere compagni così, è un mister così che crede tanto in me. La Juventus è uno dei più grandi club del mondo e tutti penso che quando iniziano a giocare a calcio vogliono giocare per la Juve e quando ho avuto la possibilità di giocare per la Juve non ci ho neanche pensato. Tu sei un giocatore eclettico, quello della metà campo in avanti perché puoi giocare trequartista, attaccante e anche mezzala volendo, qual è il ruolo nel quale ti trovi meglio? Il mio ruolo dall'inizio è sempre stato il trequartista, poi ho avuto tanti mister, ho giocato in Atalanta, ho giocato in Parma quindi ho cambiato un po' di ruoli, posso giocare esterno, l'anno scorso ho giocato tutto l'anno mezzala, quindi dove mi mette il mister io giocherò ma io mi vedo come un trequartista. Guardiamo avanti, tra qualche mese, al tuo arrivo alla Juventus e ai nuovi tifosi che ti aspettano, qual è il tuo messaggio per loro? Prima ho un messaggio per i tifosi del Parma, ho già un partito lunedì, sto già pensando a quello e darò tutto quello che ho per giocare e migliorare come ho fatto ogni partita questi sei mesi. Per i tifosi della Juve posso dire che quando vengo qua a luglio darò tutto quello che ho per la maglia e tutti i giorni quando vengo qua per allenarmi lo faccio per migliorare, quindi voglio migliorare per ogni giorno e voglio farli tutti contenti. Grazie. Grazie.